11. Fino al gomito. Ogni giorno scrivo distupri, furti, sequestri e assassini. Scrivo solo notizie di cronaca cattiva e molto spesso il mio mestiere, per la voglia che ho di dire cose buone, mi sembra una chitarra senza corde. Ma giorni fa mi è arrivata in redazione questa lettera. Caro giornale, sono una ragazza a cui oggi si è aperta una nuova vocazione, che ho scoperto tra un giorno comune e un altro giorno. Durante il tempo libero ho deciso di andare a lavorare al CAMI, centro assistenza a malati impediti, perché mi sono accorta che moltissimi di noi che sono sani non sanno che molti nostri simili intingono ogni giorno il cucchiaio fino al gomito, in un'avversità che non ha limiti. Non so se questa notizia vi potrà interessare, ma per me è importante e ve l'ho scritta. E io l'ho pubblicata. Ho fatto finalmente il cronista di cronaca buona. Alla notizia ho messo un titolo orribile per i miei colleghi, la ragazza che coglie i fiori delle lacrime. Commento La notizia cattiva o resa tale impegna emotivamente il lettore, è anche per questo che regna nei media. I maestri spiegano che la notizia cattiva fa vibrare i codici astrali dell'individuo, che sono codici di bassa frequenza vibratoria. Ma i maestri avvertono anche che, se la maggioranza della gente ha ancora bisogno di queste notizie per essere interessata a ciò che le accade intorno, è segno che la sua evoluzione è ancora bassa e che sono ancora i corpi astrali degli individui che hanno bisogno di perfezionamento e quindi di vibrare fortemente.